Quarta dose vaccino anti-covid, costa meglio parlare di richiamo annuale. Fragili, ovvero 80 residenti dell'RSA, ad oggi ci fermiamo qui per il secondo richiamo o quarta dose. Altra ipotesi, ma attendiamo quelle che saranno le indicazioni della comunità scientifica e pensare che ci possa essere un richiamo annuale un pochino più generalizzato, anche perché io onestamente sono un po' contrario a parlare di quarte o quinte dose. Io parlerei più di richiamo anche perché chi ogni anno fa il vaccino anti-influenzale, dopo vent'anni non è chi arriva alla ventesima dose, ogni anno fa un richiamo. Lo ha detto a Lanza il sottosegretario della salute Andrea Costa. Speriamo aggiungere di arrivare a un vaccino unico che abbia sia l'anti-influenzale che l'anti-covid e confidiamo che la scienza ci metta a disposizione questo strumento. L'obiettivo è quello di arrivare a una situazione di convivenza con il virus e a un richiamo annuale. Questo è l'obiettivo al quale la scienza sta lavorando. Nel suo colloquio con Lanza il sottosegretario però parla anche di un ulteriore allentamento delle misure anti-contagio. Dobbiamo lanciare dei messaggi di fiducia e di speranza ai cittadini e io credo che ci sono le condizioni per un'estate senza restrizione. Questo sicuramente è un obiettivo raggiungibile. Guardando anche al miglioramento dei dati sull'epidemia da Covid-19 ha sottolineato aggiungendo dopo due anni di regole e restrizioni soprattutto dopo che gli italiani si sono vaccinati e hanno rispettato tutte le indicazioni del governo è giusto dare in questo momento messaggi positivi ed è giusto dire che ci sono le condizioni per un'estate senza nessun tipo di restrizione. Grazie.